È un grande piacere trovarsi oggi ospiti dei Carabinieri Associazione Nazionale Carabinieri San Giovanni Valdano con il Presidente Antonio Buongiorno, grazie Antonio per l'invito. Una giornata, un sabato 14 ottobre, piena di significati perché oggi il Presidente andrà a dare sette riconoscimenti a sette colleghi che nella vita si sono distinti indossando con grande professionalità e entusiasmo anche la divisa dei Carabinieri. Antonio, qual è il significato di questa giornata perché oggi ci hai invitati qua, qui presso la sede San Giovannese? La prima cosa voglio ringraziare il Capitano e il Signor Capitano perché è la prima volta che viene alla nostra associazione e quindi mi fa tanto piacere. Da 15 anni che sono Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri e alla fine dell'anno, quando diamo il pacco natalizio, ci sarà il rinnovo del Consiglio della sezione. Ora arriveranno le lettere a tutti gli iscritti, se c'è qualcuno che vuole aderire al nuovo Consiglio e ci farebbe tanto piacere perché purtroppo siamo ristretti, nessuno vuole accettare perché qui c'è un impegno enorme, enorme, enorme. Ho fatto il militare nell'arma, ne sono contento, ho fatto una bella esperienza che anche lì mi ha dato qualcosa e in più posso dire che questa sezione, perlomeno nel ruolo che ho io a San Giovanni per ora di Presidente della Proloco, devo dire che quando ho avuto bisogno di essere supportato anche in servizi di steward, la sezione ha sempre risposto. Grazie a tutti.